Eminenza, un augurio per Natale, per i nostri telespettatori, ma soprattutto per tutto il popolo di questa grande Diocesi. Molto volentieri vorrei che il mio augurio potesse raggiungere ad uno ad uno tutta l'enorme quantità di fedeli della nostra Diocesi. Non dobbiamo dimenticare che quasi il 90% è battezzato e per noi il battesimo è qualche cosa di definitivo, quindi sentiamo sia anzitutto tutti loro come vicini al nostro cuore, alla nostra mente, a quella di tutti i sacerdoti che in questi giorni stanno finendo di girare per le loro case, ma questo augurio si dilatta ovviamente a tutti gli abitanti e coloro che vivono in questa ormai enorme metropoli dentro una logica di società plurale che però vuole essere costruttiva, lo si vede da tanti segnali e vuole essere realmente una possibilità ed un segno di rigenerazione, di rinascita per tutta la realtà europea e non soltanto. Quindi il mio augurio è per ciascuno, fosse possibile sarebbe un abbraccio per ognuno degli abitanti di questa realtà e delle terre ambrosiane. Un augurio per i bambini, per i più piccoli, più fragili? Questo tengo molto, sempre chiedo di portare la benedizione della Trinità, cioè dell'amore purissimo ai nostri bimbi che pur avendo magari molto quantitativamente rappresentano comunque una delle fasce deboli della nostra società. Mi auguro che la maggioranza abbia potuto fare o vedere un presepio per rendersi conto che Dio si è fatto bambino come loro e che quindi questo rappresenta l'augurio più bello, loro hanno un segnavia molto importante dentro la loro strada. Spero anche che i genitori insegnino loro una piccola preghiera in occasione della notte di Natale e voglio dire a loro che il mio saluto e la mia vicinanza sono molto molto stretti. È ancora possibile farsi un augurio di Natale in questo momento di dolore? Sì, deve essere possibile più che mai, certo stiamo attraversando un momento molto difficile se poi quest'ultima notizia del blocco e dell'uccisione purtroppo perché ogni morte è sempre esecranda dell'autore della strage di Berlino qui a Sesto si confermerà, segnerà ancora più da vicino le nostre giornate. Certo reagiamo con comprensibile paura, reagiamo chiedendo sicurezza alle nostre forze dell'ordine che sono ben preparate e però non dobbiamo illuderci questa prova che adesso attraversa l'Europa mi pare 11 attentati pesanti, talmente portatrice di un problema endemico che avrà bisogno di tanto tempo. Allora paura si capisce, sicurezza necessaria ma ci vuole qualcosa di più lungalena come l'educazione, come la cultura, come il recupero di un senso della vita che per noi cristiani non può non essere la testimonianza della tenerezza amorosa di questo Dio che si fa bambino.